Voglio darvi un po' di tipi su questo magico dessert il mandorlato e Gian Domenico è il maestro che è dedicato a questo è un ragazzo italiano, sono i miei amici questa mattina Gian Domenico, per favore ci parli di questo dessert questo è un mandorlaccio, è un dolce tipico pugliese è realizzato solo a base di farina di mandorle, uova e miele poi viene coperto con del cioccolato bianco e una granella di mandorle pralinate è un prodotto senza farina è importante questo, vengono usati tutti gli ingredienti di una volta e sono tutti ingredienti tipici pugliesi, soprattutto le mandorle che sono tipiche baresi parla parla delle mandorle, le mandorle è il nostro punto di forza della pasticceria pugliese in quanto la mandorla barese è una delle migliori che si trova a livello mondiale grazie Gian Domenico guarda, prima di finire vorrei che ne tagliasse una fettina e lo assaggiaste vado io, vado in alcolo lì che c'ha qualcosa perché veramente quando lo metti in bocca è un orgasmo è un'afrodisiacca dessert la roba è una nozze queste qua io l'ho già mangiato un pezzo quindi basta però... eccolo qua, perfetto sembra una luna, la assaggiamo la facciamo assaggiare anche alla cameraman così sentite l'effetto in inglese, please mmmm ragazzi dovete venire in Puglia you have to come to Puglia to try, it's amazing Rugo di Puglia Bernardi Bernardi Pasticceria dal 1973 grazie ciao Ciao!